Salve a tutti ragazzi, qui è Cianchi che parla e benvenuti in questo nuovissimo video Quest'oggi... Ma non dico più niente Quest'oggi apriamo il secondo tin, ovvero quello di Venusaur X Vabbè, la scatola ovviamente è uguale, quindi non c'è bisogno nemmeno che ve lo faccio vedere E niente Vabbè, procediamo Ah sì, ho levato il folletto perché, boh, può essere che è lui che porta sfortuna questo E' un poco aggiornata il folletto, quindi lo vediamo LOL Questo si può benissimo buttare Ok, Venusaur X mi piace tanto come hanno fatto l'artwork Perché poi alla fine sono tutte e due, tutte e tre carte che non sono tanto buone, ecco Per chi gioca Però questa X mi piace veramente, veramente tanto Lo faccio vedere bene perché merita, merita veramente tantissimo Tra le tre è assolutamente la mia preferita, senza dubbio Speriamo che dopo questo complimento magari ci faccia trovare qualcosa, ecco Qua c'è il codice, meno male che l'hanno messo Ah, guarda un po' che figo C'è scritto tipo, trio del potere, ex Venusaur Ma che cose carine Qua bustine Ah, uguali a quelle di prima praticamente, pure gli artwork Cioè ma sembra che abito in autostrada dal casino che c'è Eppure non abito in autostrada In autostrada E questa è una cosa che veramente mi fa un po' cobo Intanto Venusaur che non ti vuole chiudere Oppone resistenza Oh, entra Bastard Bastard Starbucks Yeah, ah intanto io non mi sono accorto che Ok Sei un ribelle Amigo sei un ribello Sei molto sveglio Ok, tre bustine Oh, questo invece Vabbè Cominciamo ovviamente ad XY Dove cerco soltanto un Trevenant Allora, se trovo un Trevenant Guardate, sono felicissimo Perché me ne servono quattro, no? E io ne ho soltanto una ex Scherzavo Ne ho soltanto tre Dai Vediamo se troviamo sto Trevenant Allora No Di mettere a fuoco Bra No Oh Oh, che succede? Bravissimo Allora, dobbiamo lì Lillipop Phantom Dai, questo è un buon segnale SweetlyX Ergia Lotto Jaspi Herdior Shana Fletchinger Tauros E In avanti Fuoco infernale Che tin di merda Lasciatemelo dire Proprio di merda Oh, full art Dai, cazzo Sì Vaffanculo Ok, scusatemi Il piccolo sfogo Ci voleva Ci voleva per forza Mi sono finite pure le Sleeves I B Sleeves I Can Fly Cosa sto dicendo? Oh, che bello Full art Allora, di full art di questo setto Soltanto le tre trainer Charizard E Kangaskhan Allora, sinceramente Non mi dispiacerebbe trovare Un altro Lissandre Non è che mi dispiace Però Poi cosa c'è di Di full art Toxicroak Oh, non mi ricordo più Di full art Boh, vabbè Comunque Sandile Bergamite Pineco Spill Buneri Elysio Buono Sligo Fretta rispettosa E stanchi La full art Ce l'ho tre volte Tre Dico tre volte Magari se Era un Lissandre Ok, potevo capire Wow, bello Lissandre Ma Che 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 Non parlo Cioè, nella fortuna Sono stato sfortunato Vabbè E' così Che deve andare Comunque Vendo scambio Preferisco vendere Se qualcuno Interesse E' disponibile Comunque Era il folletto Che porta la sfortuna Hai capito Il folletto Pancha Torchic Free Fairy Pikachu Magmar Centro aggamento Porto tale Tyrant Combust E Glaceon Ok ragazzi Per questo Tin è tutto Diciamo che è andato Bene Dai Venusaur Di sicuro Ci ha portato Più fortuna Degli altri Niente Questo E' Tutto O quasi tutto Sì, quasi tutto Perché Manca ancora L'ultimo Tin Quindi con queste due Carte Io vi saluto E questo è tutto Mi raccomando Un bel like Alla prossima Da ciao Ciao raga Ciao raga Ciao raga Ciao raga Ciao raga Ciao raga